Ed eccoci qua in un nuovo gameplay Marco Sciarchi che arriva a basso Non ci pensiamo ancora come niente Oh, addirittura ruba la cassa da cattone Ragazzi, Alibaba è atterrato qua vicino, avete visto? No Eh, vabbè, siamo un terezzo ormai, occhio Yeah, I'm here next to you guys Ok, ok Ok Attenzione 3 men and Cimitari Io ho scudini per voi, ragazzi, se volete Non prendete gli scudini Eh, non lo pia, aspetta che ti do Che ti do il fatto apposta Ah, già ho trovato quelli piccoli pure Perfetto, meglio ancora Andrei, guarda, ne metto qua uno scudini All'entrata Ok Abbiamo finito, ragazzi Lo scudino l'ho visto, eh Marco Mi serve un cecchino e un bazooka Mi serve un cecchino e un bazooka Vi devi essere in giro Vai Che favondo, magari a chi è cero eh? Aspetta, aspetta Fatte un po' dei materiali Aspetta, fatte un po' dei materiali Aspetta, aspetta Aspetta, fatte un po' dei materiali Dai, comunque si Va le casette Va dai, intanto va le casette Guarda che non ci sia nessuno Guarda che non ci sia nessuno, dico Avevo tutto qua Sì sì, no, volevo aspettare Il resto del team Oh, posate Top C Top C Cioè non li vediamo arrivati Manco quando stavamo entri insieme Figura delle ssd di demo, capito? Ma... Hai buttato bene, ma? Chi è? Volevi quello Ma perché sparate? È stato scudo Marco, spara Marco dai, no Che fatto vedi? Il scudo lo fa? Stanno qua sotto a me Andiamo a vedere che si dice al cratere, eh? Al... sì, dove stanno... Do you have rockets, guys? Chi dè? Yes, i missili, se c'ha i missili Sì Sì, due ... for... Nice Ci dà la da Erbazzucca, Lou Ha rimediato Erbazzucca Eh? Hhh... Mmm... ildo Mh... E' la super diga la jump che è? Sì Niente No jump l'acquisto andiamo qua, li boba ok, a posto sì, andiamo a vedere la casa quella là un po' tirina continuiamo? dove andiamo adesso? ragazzi, che gli è stato a far quella casa? ci sono nemici nella città ragazzi, venite a darci una mano? siamo qua mi sentite? stanno a sparare, non ce l'hanno con noi però vingage stanno a salire sul tetto ah, si sparano fra di loro, aspettiamo un attimo muori di vivia, muori di vivia lo so, io sto a tirare le granate esplosive però che... vai, vai parla a faiare del bastardo ok, io sparo io vai, vai vai ok, è morto a posto chris chris, io c'ho degli scudini ma penso che li troverai anche in giro, no? vediamo un po' no c'è stavano del lavo, visti i miei cipi no guarda la casa ma sì, dai ti pare che non trovi degli scudini un po' do you have more rockets guys? no è tutto, è o che è? no, no Oh oh, chi è? Scusate, sono io, sono io Ma io non lo so, eh Ma che figure mi fai fare Ce l'abbiamo i materiali, Marco, lì? Sì Sono quanti vostri Ma Io mi sto a fanno Vabbè, andiamo in Sayu Chris Chiedo, io Eh, lì gli scudini li hai trovati? Sì Ok, se no te li davo io, c'erano dieci, eh Quelli mi avanzavano, l'ho presa a posto Dai, vieni, che non vorrei rimanere solo Arriva, arrivo Ha un attacco nemico Non c'è prova, Marco, lì non c'è prova, c'è solo rischio che caschi giù, passa sotto, passa C'è prova Che ritardati Bad idea here, we have to go back down Sì Stay down, collars Dice da non salire, che mori scendiamo pure noi, eh Siamo solo saliti per vedere il panorama Ma qua non c'era una cassa nord Ma qua non c'era una cassa nord Non c'è più Vabbè Ma che fai, è stata salita dell'agri? Nooo Vai vai, segui il professionista Follow Alibaba Ragazzi, vuoi che vi sei presi tutti i cosi dell'agri? C'è qualche medio? C'è qualche medio? Vivo a 174 A sud-est sulla montagna c'è il nemico Lui ne ha visto uno Eccolo là, lo vedi? C'è un po' di Oh C'è solo uno? Maybe, eh Pensati sì Va a prendere la cassa del tesoro che sta là sotto He's going back to the right side, on the mountain Eh, sud-est, 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 eccolo là I see Up, up Eccolo, 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 eccolo 150, lo vedete? Occhio che sta alto, lo vedete pure lui Ah, l'ho stata rush a proprio? Io mi ero fermato E' un pozzo, è che toccano E' un pozzo, dai, fai un po' fuori sto, però C'è... Devi fare... Non c'è, non c'è, non c'è nessuno Non c'è, non c'è nessuno Ma io me l'ho preso Sai che vedo un po' che ci porto Up, 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 up Sta su, sta su Bello qua, cazzo, lo vedi Eccolo Eccolo Oh, ne la faccio a trovarlo, scusate Non so di chi sono le granate, spero che sono le nostre Sono le mie, sono le mie Sono le mie, sono le mie Oh, ma l'alibaba sta per terra pure lui Ah, sono rimasto solo io? No No Non va bene Nice Head collapse Head collapse Pass Qui a me, Andre, io sono a morire Marco, via qua, non te muove Chris Chris, curi alibaba al volo? Sì Ragazzi, io sono molto emozionato Bravo, bravo Nice place Guarda, non mi hanno toccato Io c'ho solo uno io Scudini, dieci scudi Dieci termini shield Dai Eh, dammi gli scudini, Andreu Yeah Ma adesso Due qui Un'altra due qui Io ce l'ho Due band, se ce la vede No, le band non ce l'ho No, le band non ce l'ha nessuno No, le band non ce l'ha nessuno Hanno fatto tanto rumore ai ragazzi Potrebbero arrivare altre persone Io non ho ammazzato uno qua sulla scala qua A nord-ovest Eccolo qua Lo vado a lutta un attimo Scusate Ma guarda sto pezzente Se lo sapevo te lasciavamo vivo quasi quasi Ecco La cosa c'avevi Do you have bandits? No Sì No, no Magari Perché facciamo i bandits Che c'è vedere? Un po' dei mediti? Un po' dei mediti regali Io non credo niente Occhio da pinnacoli Tiè i mediti te vedo io Tiè Ok, andrea Do stai? Ecco qua Grazie Vabbè Eh, io I have A jump Attenzione da pinnacoli Che vedevo ti Andiamo Troveremo bandage Bondage Più avanti Non era uno comunque No alla fine No one man Team Team È solo che quelli sotto sparavano con quel lanciagranata di merda Ci hanno fatto il culo Mortacci loro Però poi l'ho visto E allora io No Do you have more rockets guys? Eh Two? No Io No Io li sto usando È molto meglio Potrei per fare qualche heavy shot Heavy bullets È bella Carmi È bel È di I think in airdrop here I go Occhio eh Marco Marco Cazzo cazzo Marco Cazzo vaffanculo Marco Eh no cazzo no Ti dico lo sta attento Un momentaccio proprio delicatissimo Dove è questo? Ma che faccia a bambole roba dai Non mi fa modificare questo Via via questi scudi Dai via sto scudo Dai via 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 Cioè fai a bende qualcosa No non c'era niente Perché questo non ha visto lo scaroro non l'ha visto qua Che babbole Eccola a benda Lo scaroro Eh lì da te c'era lo scaroro non l'hai visto Dai andiamo in sei Oh Ricorri Andiamo da loro Andiamo da loro Vieni vieni No c'è lo ha mano Vieni con me che seguiamo Alibaba in sei Dobbiamo trovare per tu Ah dai un paio de bende Alibaba se te avanzano Avanzano si Dagliele va a lui servono più che a te you want the jump can use this yeah alibaba look this jump for you if you want alibaba take the bandage oh yes levate vede mezzo voi intanto che lui sicura levate vede mezzo ragazzi i nemici stanno prendendo posizione sicuramente in alto 7 siamo noi 4 3 men 3 men left I and you and marco sciarchi and chris dai prendete la jump insieme alibaba dai andiamo sulla montagnola seguitelo oh enemies enemies here guys down yeah push push fuck ok one one down 2 down andata dai andata una mano alibaba se la fate a cura ah è morto va bene dai glielo dobbiamo fare ragazzi su io quello ho ammazzato uno definitivamente ne sono rimasti due ok tutto il puscio eh occhio marco tu li stai a push un po' troppo in effetto io aspetterei no cazzo ce la vuo davanti ce la vuo davanti non so se li pusciate io sto troppo lontano per aiutare ragazzi ve lo dico che la famo che la famo ce la faccio più a regge con sto scaracca così no vaffanculo da dietro no ma hanno ammazzato da me cazzo da dietro siete veramente dei nabbi schifosi ma stavo a sparare uno mi sei messo davanti Marco ma come? si dove stanno? eccoli ma che ce l'hanno? bello Andrea bella sta cosa dietro dietro dici bello arriva a scarico? arriva a scarico si si sto stavo in grande in effetti che c'è qualcosa da dà a cattone però eh devo lanciare a z eeeh rocket launcher let's go shoot on the ground spara per terra si si stand unsafe il bastardo ho perso il vantaggio della posizione in alto sai e andiamo vabbè questo non era molto capace un commento di fine partita Marco grazie